Siamo a quest'ora, allora un bigliettino ritrovato dall'autorità francese in una cassetta delle lettere di canna ha fatto scattare l'allarme. Si temeva un attentato su due treni in partenza da 20 miglia per Milano. Per fortuna non è successo niente, ma diciamo che il dispositivo di controllo era già stato avviato, è così? Tutti i dispositivi di controllo sono da tempo attivi su tutti i servizi, sia in ambito stradale che in ambito ferroviario. Quello è un dispositivo di controllo molto capillare che avevamo già predisposto e che potrà essere attivato a campione e a sorpresa nei prossimi settimane e nei prossimi mesi. Cioè sono la filosofia per cui in questo periodo noi controlliamo tutto, cerchiamo di controllare tutto con i sistemi più imprevedibili e imprevisti possibili, anche perché dobbiamo fare fronte a minacce imprevedibili e impreviste. Ma c'è un livello di allarme sicuramente maggiore un po' in tutta Italia, ma possiamo dire nel Ponente Ligure in modo particolare? Ma il Ponente Ligure è sicuramente un territorio di particolare attenzione, ma l'attenzione su questo territorio è molto alta da tempo, perché è un territorio di confine e di confine con un paese che ha già subito diversi attacchi dal punto di vista terroristico. Quindi questo sicuramente è un territorio dove l'attenzione, se è alta in tutta Italia, qui necessita che sia altissima. C'è la necessità che su questo territorio ci sia un'attenzione particolare, è chiarissima, ma lo dimostra il fatto che più di una volta, insomma è venuto il Ministro dell'Interno, è venuto il Capo della Polizia più di una volta, c'è un'attenzione massima del Dipartimento e delle autorità di Polizia e delle autorità qui locali su questo territorio. Ecco, questo è un biglietto molto preciso, con orari, numero dei treni interessati, quindi insomma non proprio un atto da buon temponi, vi siete fatti poi, per carità, per fortuna non è successo nulla di quello che c'era scritto, ma vi siete fatti un'idea di da che cosa può essere originata una cosa di questo tipo? Su queste cose stiamo lavorando soprattutto con l'autorità francese, che è quella poi deputata a fare gli accertamenti, in quanto il messaggio è stato rinvenuto sul territorio francese. e quindi naturalmente i nostri servizi investigativi di intelligence sono in contatto con i servizi francesi per... Comunque vi hanno subito avvisato. Sì, sì, certo, ci hanno subito avvisato in tempo reale, insomma, dopo poche ore abbiamo avuto la notizia e abbiamo attivato con il Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica tutti i dispositivi che sono, diciamo, preparati, predisposti dal tempo. Siamo a un passo del Festival di Sanremo, signor Questore. Sarà un festival blindato? Sarà un festival come quello dell'anno scorso dove l'attenzione sulla sicurezza sarà massima. Sarà anche l'esercito? Saranno rafforzati i controlli? Che succederà? Allora, noi non blindiamo niente. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro con la massima professionalità in modo da coniugare la garanzia della sicurezza dei cittadini, che è il primo nostro obiettivo, il nostro obiettivo primario, la nostra funzione istituzionale, con anche naturalmente la vivibilità e la fruibilità delle manifestazioni. Questa è la filosofia che ha ispirato i servizi dei festival degli anni scorsi e sarà la filosofia che ispirerà il servizio di sicurezza del festival anche quest'anno.